Teatrice, cosa serve allora? Presenza, educazione, affetto, vicinanza e apertura. Apertura anche ai luoghi dove c'è la disabilità, dove le persone disabili vivono. Quindi un'apertura al mondo del volontariato, al vedere la realtà, in modo che la vittima non venga vista come qualcosa di misterioso e di strano, ma come un alter ego, un altro me, un altro essere umano proprio come me, che vuole essere felice proprio come me. Quindi tutti i luoghi del dialogo sono preziosi. Faccio notare una cosa rispetto alle differenze. Non l'abbiamo ancora detto, ma quelle sono ragazze. Rispetto anche al bullismo del passato. Le vittime degli articoli che abbiamo letto sono ragazze. Questa è una grande novità. È una novità che è, diciamo, drammatica, perché comunque anche, come dire, una parte del genere umano, che tutto sommato non era mai stata protagonista, invece diventa protagonista di questi atti. Ma qui torna una bomba. Il ruolo, l'educazione che hanno i genitori, perché mi immagino io con mio figlio, adesso ha cinque anni, se lo penso tra dieci anni, bulletto, ma anche prima, insomma, nella prima fase dell'adolescenza, bulletto verso i più piccoli di lui, se vogliamo più sfortunati, più deboli, più fragili, vuol dire che io non sono stato capace di fargli capire quella differenza, di capire chi ha intorno. Non solo tu, anche la scuola, anche il villaggio globale in cui siamo immersi, nel senso che i bambini attualmente passano anche meno tempo con noi genitori e passano molto tempo anche con altre figure. A volte i programmi antibullismo, così come vengono pensati, non sono molto efficaci, perché si riducono a un predicare, a dei ragazzini che ti ascoltano o non ti ascoltano. Quanto è più efficace, invece, magari ai bambini di quarta elementare, far fare come attività di aiutare quelli di prima a preparare la merenda, cioè proprio instillare, sin dall'inizio, la cura verso il più piccolo. Chi ha tre figli, quattro figli, chiaramente è avvantaggiato in questo, nel far considerare quant'è importante la cura e quanto sia vile prendersela con i più piccoli. Quindi è tutta una riforma dell'educazione, è tutto un dialogo con il debole che deve essere visto come una persona uguale a me, solo un po' più piccola, non un'altra cosa, qualcosa che non esiste. Questo hanno anche molta responsabilità in media, che non ci rappresentano mai questo, ci rappresentano sempre corpi belli, perfetti, persone fortunate, sorridenti. E allora i ragazzi pensano che bisogna essere così e se non sei così, non sei come me. Manca una cultura della protezione, del più debole. C'è una storia che... Grazie.